Ma allora io quasi quasi faccio una lista Hashtag ritmo nel sangue E la posto sui social una foto mia Dentro un pentolone con tutti i negri Con le lance, una cosa ironica Col cigno dietro Nudo un po' così, capito? Sai qual è il mio problema? Che Twitter prima c'eva 140 caratteri E lì me la giocavo Adesso li hanno raddoppiati a oh 280 caratteri, che c'è lì? 280 caratteri del contenuto